La strada per la gloria degli altari sarà lunga, secondo le severe leggi della Chiesa, ma ora che la Congregazione per le Cause dei Santi ha concesso il suo nulla osta, l'iter può ufficialmente iniziare. Per proclamare un giorno beata e poi santa anatuzza, la chiamano i suoi tanti devoti, all'anagrafe fortunata Evolo, donna di povere origini, analfabeta, madre di cinque figli, nata a Parabati in Calabria nel 24 e l'ha vissuta e morta nove anni fa, già circondata da fama di santità. A breve, credo, spero, nell'arco dell'anno di costituire il Tribunale diocesano per il processo canonico e contemporaneamente anche creare una commissione storica. Primo passo sarà ricostruire il profilo biografico della serva di Dio. La sua spiritualità è molto semplice, una donna di fede, di preghiera, assolutamente obbediente alla Chiesa. Obbediente anche quando ai fenomeni mistici che le accaddero furono negati o screditati. Qualcuna l'aveva accusata di negromanzia, di provocare, di parlare dell'intervento dei defunti. Obedienza la Chiesa ha poi chiesto anche ai suoi devoti, la prudenza del resto ed obbligo, parlando di stigmate, bilocazione, estasi e visioni, di cui le riserve oggi superate, di un'altra congregazione vaticana, quella per la dottrina della fede. La sua umile casa divenne meta ogni giorno di centinaia di uomini e donne, per affidarle sofferenze e preghiere e invocare conforto e pace. Chi era insomma Natuzza Evolo? Per il popolo dei suoi devoti la causa comunque è solo questione di tempo. Quando nove anni fa lei è deceduta la gente chiamava Santa Subito, Santa Subito.